cosa ha fatto su adesso è certo vado noi sarà una planata va questo è il decollo di noli, vediamo se riusciamo a riagguantarlo, Beppe e Renato in decollo dici di provare di qua ma se lo vai giù ragazzi ecco i carabinieri, la casermetta di Cabonoli vediamo se andando a macchina si sono uscita abbiamo 0302 praticamente non si perde niente e la gialla è blu oopi eh siamo 20 invece sto al decollo circa e qua si scolgono bisogna fare lo slano in mezzo ai pini qua altro che ecco qua noi con il spotorno e il manual vai in 2 ecco qua 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 Vabbè, tentiamo di fare la traversata E che vada Facciamo il giro con la rame La radio ci vada a qualche parte Allora, sto perso Benissimo Allora, senza altro Eccoci, è travitato di Noli Allora, sto parlando di Noli Allora, sto parlando di Noli Allora, sto parlando di Noli Grazie a tutti. Non ce la faccio, lo sottometto. 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 non sono mai brutto la prima volta 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 non è brutto la prima volta non è brutto la prima volta non sono mai brutto la prima volta non è 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 brutto la prima volta